Anno nuovo e nuovo Campoconi. Dal prossimo 2 gennaio infatti cominceranno i lavori di restyling dell'impianto sportivo di via Tagliamento in vista delle universiadi di questa estate. Dopo vari ritardi e slittamenti che sono però dipesi dall'Aru, l'agenzia regionale delle universiadi che sta gestendo in modo diretto gli appalti, il cantiere finalmente aprirà i battenti. Circa 750 mila euro il costo degli interventi che daranno al Campoconi, che ospiterà gli allenamenti dei professionisti di arco e frecce, davvero un volto rinnovato. Nuove recinzioni, rifacimento finalmente della pista attetica ormai usurata e abbattimento degli spogliatoi che verranno completamente ricostruiti. Ma non solo la tendo struttura da anni chiusa, abbandonata e ridotta a un deposito scomparirà, al suo posto ci sarà un moderno playground. Il punto interrogativo ora riguarda l'utilizzo o meno dell'impianto durante i lavori, ovvero capire se sarà interdetto completamente o solo in parte. Il professore Giuseppe Saviano spinge naturalmente per una chiudura a steppe, ha già chiesto un confronto col commissario Priolo per capire meglio la situazione complessiva. Il cantiere dovrebbe, il condizionale d'obbligo, chiudere per maggio, scadenza ultima fissata proprio dall'Aru, altrimenti il rischio è quello di perdere i fondi. Anche al palazzetto la ditta appaltatrice ha formalmente preso possesso della struttura, ma gli interventi non sono materialmente cominciati. Ancora tutto è stand by invece per lo stadio Partenio Lombardi, dove sarà realizzata una sala convegni sotto la tribuna Montevergine e potenziata l'area hospitality.